A Sant'Alfio è nata una vera e propria polveriera politica sul caso Festa della Birra. Il sindaco Giuseppe Mariani Cotra, i nostri microfoni, non ha nascosto la sua amarezza ed in consiglio comunale ormai si sono aperte faide difficilmente ricomponibili. Oggi con una nota, Benedetta Paternò risponde a Maria Coco, attuale capogruppo della maggioranza di Siamo Sant'Alfio. Sul caso Festa della Birra, che vede coinvolto il presidente del consiglio comunale Renato Finocchiaro, la Coco qualche giorno fa aveva attaccato la Paternò, che l'ha preceduta peraltro nel ruolo di capogruppo, accusandola di sciacallaggio e di volersi avvantaggiare della vicenda a scopi elettoralistici. A mio avviso, scrive la Paternò, avrebbe fatto bene la Coco a rompere l'imbarazzante silenzio che avvolge il caso e cominciare a spiegare l'accaduto, visto che la stessa era presente sul posto quella notte, per esempio dichiarando qual è la posizione del gruppo al riguardo. Resto in attesa, aggiunge l'ex capogruppo, dichiarimenti così come i concittadini che rappresento riguardo la faccenda da chi ne ha il compito istituzionale, per potermi poi occupare di cose costruttive, come ho fatto fino ad ora. Poi Benedetta Paternò chiude la nota con un'affermazione ironica, alludendo al plauso che Maria Coco ha fatto nel suo documento alla richiesta di un consiglio comunale straordinario formulata dal capogruppo del Movimento Sant'Alfiese, il gruppo di opposizione Carmelo Coco. Prendo atto, conclude il suo documento Benedetta Paternò, infine che l'assonanza dei cognomi dei due capigruppo si è tramutata in unità di intendi, ottenendo la pubblica stima e approvazione. Un nuovo amore politico, con il punto interrogativo, si chiede la Paternò?